vai ok faccio countdown vai ok 3 2 1 via molto minimal si ma proprio struccato devo aver fatto guardi la sera prima comunque sei sempre uguale comunque mettere like mi ti rimane incinta dai metto questo like con questo ci parli tu ah questa è la scena con me o? si esatto che incinta? la ristorante come si fa? come si fa? come si fa? cosi 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 ma come si trova? dei cosi dei linder oddio è chiaro eccolo oooh identifici a quelli del film ma erano i tuoi lollo? questi erano i miei dove li hai trovati loro al tuo tempo? posso dire? si esatto scusa non fate la preziosetta sono giorni che vi messaggiate ma non mi dire lo psicologo la sua voce più dolce più delicata poi c'ha tipo una gioia dentro che ogni parola sembra una risa Ludo ma senti poesia che dichiarazioni sono nei film ovviamente nella vita mai mentre quando è triste somiglia più a Massimo mentre quando è triste somiglia a un Massimo un piccolo Massimo Ludo da oggi ti chiamiamo piccolo Massimo ma chissà perchè l'aveviata quella battuta era bellissima oh che c'ha detto qualcosa di male? no niente non hai detto niente di male oh mamma ma questi capelli lunghi lunghissimi oh io vorrei capire cosa c'era la spazio pure a me non c'era la spazio ero riuscita con uno carino abbiamo parlato tutta la sera di cose carine uno carino uno carino io ho capito che non sono scarreggio anzano però ah infatti ah qua c'era il baso e però chi è? la fingiamo che c'è è della casting ah no perchè non c'era la spalla si è la Raffaele è stata carinissima che tipo mi dava una carezza per far sembrare un basso la mangiare del cinema proprio niente un picchione senza speranza no vabbè sembra cinque anni fa abbiamo fatto questo provino tra l'altro quelli erano gli occhiali di Nico il regista di Nico Jonas? si si sono gli occhiali di Nico si si scusa ma erano graduati? sono quella di parenti ci sono ancora in ghiaccia no poco poco mi ricordi in realtà no ma sembrano quasi senza lei e poi poi con la maglietta e poi con la maglietta God bless si si Marco proprio è un personaggio capito azzeccato l'avevo capito subito io e poi comunque sembra piccolissimo con i capelli così no avevo i capelli molto molto corti confronto da adesso ma è troppo? no vabbè stavo provando la faccia questa scena è stata stavi provando? che fatica c'era tipo dove dovevo provare le facce con roncata no era quella scena lì dove dovevo fare tutte le facce l'abbiamo fatto 60 volte e poi la conquista vabbè dai ti darò una mano a conquistare questa guenda tu però in cambio mi pulisci tutta casa dov'è lo sgassatore? non 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 non